Noi siamo a casa di un ragazzo che si chiama Gennarino. Gennarino è stanco di stare in casa. Lui vorrebbe tornare ad andare al centro amico dove si incontra con tanti compagni, tanti amici e dove si trascorre una mezza giornata in allegria. Però che succede? Che il piano di zona purtroppo deve rinnovare le convenzioni. E poi perché il piano di zona quest'anno è nuovo e allora non c'è il trasporto. Gennarino non può andare più al centro amico. È vero Gennaro? Sì, e io ne approfitto di fare una pena al signor sindaco di Pagani di mettere assolutamente un trasporto per disabili. Perché noi abbiamo tutti quanti bisogno. Sindaco, mettetevi una mano sul cuore. Perché io a stare a casa non ce la faccio. Sono 24 ore davanti a una televisione, davanti a un computer. Sono abbandonato da voi, sindaco. Andrò urgentemente perché, caro professore, voi siete venuti tante volte al centro amico e mi avete sempre ripreso con amore e simpatia. E ne approfitto, vuole fare un altro appello se è possibile, di trovarmi anche una ragazza che mi vuole bene. Ecco, Gennaro non ha chiesto niente di che, non ha chiesto niente di eccezionale, ha chiesto che venga ripristinato il trasporto per disabili per fargli trascorrere qualche ora, diversa dal software, cioè diversa dalla televisione, dal computer. Non credo che ci voglia molto. Io poco fa ho chiamato il dottore Monda, il quale, come sempre, è una persona molto disponibile, ha assicurato che entro una settimana, dieci giorni, sarà ripristinato il trasporto e forse, chissà, quell'autovettura che noi abbiamo insieme agli amministratori e ad alcuni titolari di azienda abbiamo inaugurato come trasporto per disabili ed anziani, chissà, che non venga finalmente utilizzata. E Gennarino potrà andare al centro amico, incontrare ragazzi, ragazze, e chissà, Gennaro, che da cosa non nasca cosa. Io me l'auguro, perché i miei dinettroni sono stati altri anni e non ce la faremo più. Io vorrei vedere, oggi per domani, un mio futuro.